Buonasera, bentrovati alla terza edizione del TG6 che noi apriamo parlando di trasporti perché la CGL scende in campo per criticare la riorganizzazione della tua. Sulla società unica non si torna indietro, favorevole il sindacato invece sull'affidamento in house dei servizi. Vediamo. Rolandi, si parla di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale alla luce di importanti scadenze. Sì, le novità normative introdotte per le società partecipate per i servizi pubblici locali impone a tutte le regioni una scelta rispetto all'affidamento dei servizi tramite Gana, operazione che va fatta entro il 31 dicembre di quest'anno, oppure di optare verso l'affidamento in house ad una propria società. In questo secondo caso l'operazione va fatta entro il 30 settembre. Sia nell'uno che nell'altro caso il fatto di non rispettare queste importanti scadenze determina delle penalizzazioni in termini di risorse per ogni regione inadempiente. Quindi il primo obiettivo da cogliere è quello di evitare queste penalizzazioni e quindi di procedere alla riforma nei tempi stabiliti dalla legge. Voi siete preoccupati però in generale per il futuro dell'azienda regionale di trasporto? Sì, siamo preoccupati perché dopo aver fatto tanto per dare origine all'aggregazione delle tre società, aver dato origine alla nascita di Tua, adesso la regione ci propone unitamente all'affidamento in house anche la predisposizione di uno spezzatino. Quindi fondamentalmente a due anni dalla nascita di Tua si vuole separare i servizi commerciali dalle attività di trasporto pubblico locale, affidando questi servizi commerciali ad una società che invece andava chiusa, ovvero Sangritana S.p.A. Quindi a questo punto quali sono le vostre proposte? Ma noi abbiamo già espresso la nostra netta contrarietà sia in occasione delle commissioni consigliari regionali, quindi sia davanti all'opposizione che davanti a chi governa questa regione. Lo abbiamo ribadito davanti al consigliere delegato D'Alessandro, noi ribadiamo che siamo assolutamente favorevoli all'affidamento in house dei servizi alla società regionale dei trasporti, ma vorremmo che ci fosse una maggiore razionalizzazione, quindi includere nell'azienda unica anche altre società partecipate, quale ad esempio Lama, che è la municipalizzata dell'Aquila, la Cerella di Vasto e la società Sistema, che si occupa della vendita e distribuzione dei titoli di viaggio. E parliamo ora di cronaca giudiziaria, andiamo all'Aquila perché nell'ambito dell'inchiesta denominata l'importante partecipare sono stati chiesti e revocati i domiciliari a Marcello Marchetti e Mauro Lancia. Vediamo il servizio. Tornano in libertà, sebbene in misure attenuate, due degli indagati nell'ambito dell'inchiesta l'importante partecipare, su presunte mazzette in 12 appalti pubblici di ricostruzione post-terremoto, gestiti dagli uffici dei beni culturali d'Abruzzo, conferma dei domiciliari invece per l'altro. Sono le decisioni assunte dal Tribunale del Riesame dell'Aquila, a cui sono stati rivolti tre dei dieci indagati finiti agli arresti domiciliari. Anche altri indagati, raggiunti da misure cautelari, hanno presentato ricorsi al riesame, che però hanno ritirato prima del pronunciamento. A Marcello Marchetti, architetto aquilano del segretariato Mibact, e Mauro Lancia, contitolare della Lancia SRL, il Tribunale ha rievocato i domiciliari. Al primo resta l'interdizione all'esercizio della professione e dell'ufficio. Per il secondo c'è il divieto di dimora nel capologo abruzzese. Lo stesso Riesame ha invece respinto l'istanza dei legali Lionello Piccinini, aquilano, geometra del segretariato Mibact, e tra i principali indagati, dopo essere stato intercettato, a conteggiare soldi che per gli inquirenti erano probabilmente frutto di tangente, e a prendere in giro le ditte che rimanevano escluse in favore di quelle che pagavano ed avanzare dubbi su alcuni lavori chiave, come quello del teatro comunale. L'inchiesta ha portato anche cinque interdizioni nell'attività e a venti indagati tra professionisti, funzionari Mibact e imprenditori, per 35 indagati complessivi. Tra questi l'imprenditore Vito Giustino, intercettato a ridere dopo il terremoto di Amatrice 2016, pregustando nuove e ricche commesse, interpretazione smentita dall'interessato, e l'ex segretario regionale Mibact, abruzzese, Berardino Di Vincenzo. Nel complesso, le decisioni del Tribunale confermano il castello accusatorio della Procura della Repubblica, che, infatti, da quello che è appreso, non intenderebbe presentare ricorso. Da quanto appreso, l'intenzione del procuratore Michele Renzo e del sostituto Antonietta Picardi, titolari del fascicolo, sarebbe comunque quella di velocizzare il più possibile la chiusura delle indagini. Restiamo in argomento, perché è stato approvato definitivamente il piano stralcio di finanziamento per la riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. E la decisione presa all'interno della riunione, tenutasi a Palazzo Chigi, a Roma, della cosiddetta cabina di regia, che ha sbloccato fondi per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro, ammessi a finanziamento 5 interventi, due in provincia di Teramo, Teramo Città, alloggi Erp, in via Giovanni XXIII, in via Gelasio Adamoli, due in provincia dell'Aquila, alloggi Ater, a Cagnano, a Miterno e a Pizzoli, uno in provincia di Pescara, a San Valentino, in Abruzzo Citeriore. Licenziato poi il primo stralcio del programma beni culturali danneggiati dal sisma per un finanziamento complessivo pari a 15 milioni e 700 mila euro. Alla riunione odierna, convocata dal commissario per la ricostruzione Vasco Errani per l'Abruzzo, ha partecipato il sottosegretario regionale Mario Mazzocca, assieme ai rappresentanti delle altre regioni coinvolte nell'emergenza sisma, Marche, Lazio e Umbria. Nell'incontro si è discusso anche il tema delle agevolazioni alle imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici. La cabina di regia è stata riconvocata per il prossimo giovedì 17 agosto per fare il punto della situazione sulle tante attività in corso anche e soprattutto in vista dell'approssimarsi dell'avvio del nuovo anno scolastico. E noi restiamo ancora in tema polo scolastico per 900 studenti all'Acqua Viva. E' questo il progetto del Comune di Teramo che intende così risolvere il problema degli edifici scolastici creatosi dopo i terremoti che hanno colpito il Centro Italia, tutti particolari nel servizio curato da Noemi Fratelli. Costruire un nuovo polo scolastico per circa 900 studenti nei pressi del Centro Storico Teramano è il nuovo ambizioso progetto del Sindaco di Teramo Marizzo Brucchi che ieri ha sottoposto al Commissario per la ricostruzione Vasco Errani e al Ministero dell'Istruzione l'idea del polo scolastico all'Acqua Viva. Con l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici interessati è emerso che l'85% degli edifici è al di sotto della soglia minima di sicurezza. Di conseguenza, il Comune ha definito le necessità economiche per adeguare il patrimonio scolastico pari a 53 milioni di euro. Ma il Comune tranquillizza i residenti informando che allo stato attuale sono finanziate la ricostruzione con l'adeguamento sismico della scuola di Villa Ripaco, 233 mila euro e la scuola elementare San Giuseppe con un totale di 4,1 milioni di euro interventi che si sposano con quelli nel vecchio stadio comunale. L'Ordine degli Architetti della provincia di Teramo si è offerto per dare un supporto qualificato al Comune e ai cittadini. L'Ordine fa presente che per la realizzazione dei nuovi poli scolastici si deve assolutamente tener conto dell'integrazione degli edifici con il tessuto urbano, della microzonazione sismica del territorio, dell'accessibilità al trasporto pubblico locale e delle vie di fuga e di accessibilità ai mezzi di soccorso. Genitori e alunni possono stare tranquilli. Le forze comunali si impegnano a mettere al primo posto la sicurezza dei ragazzi. E cambiamo pagina perché dopo 11 anni il Comune di Pescara si dota del nuovo piano sociale che potrà contare su 13 milioni di euro, due in più, rispetto al piano precedente. Soddisfatto il sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini. Vediamo. Dopo 11 anni si fa un nuovo piano sociale. Il precedente è datato appunto 11 anni fa e è stato rinnovato per 11 volte. Questi 11 anni è cambiato il mondo e c'è la necessità di dare una risposta complessiva sul fronte socio-sanitario. A questo è servito il lungo viaggio che è stato intrapreso per arrivare alla presentazione di questo piano sociale attraverso una plurima serie di incontri, 23 per la precisione se non stati, che si sono tenuti con tutti i soggetti portatori di interesse. È un documento molto importante in cui, lo evidenzio subito, ci sono più soldi perché il complesso dei servizi socio-sanitari è riuscito a drenare ulteriori risorse per 2 milioni e siamo a complessivi 13 essendo in grado di intercettare progettualità a vario livello da quello nazionale a quello europeo oltre a fondi regionali. E quindi oggi per questo riteniamo sia un giorno importante perché non succedeva da 11 anni. Si riparte per il triennio 18-20 questo atto dovrà essere diciamo sottoposto al voto del Consiglio Comunale nel frattempo lo presentiamo frutto di un lavoro che ha visto appunto il coinvolgimento di vari soggetti anche l'accordo con i sindacati per intenderci e oggi insomma spieghiamo nel merito di cosa si tratta. I bisogni crescono però le risorse aumentano in questo caso perché si è stato in grado di sviluppare una progettualità. Dove vanno questi soldi? Vanno per fornire una risposta la più omogenea e la più intersectoriale rispetto ai bisogni socio-sanitari non è un caso che proprio tutti questi attori siano presenti alle mie spalle nell'odierna giornata di presentazione alla stampa. Restiamo a Palazzo di Città Pescara perché la lista Teodoro con i consiglieri Massimiliano Pignoli e Pier Nicola Teodoro critica a carte alla mano la decisione dell'amministrazione comunale di sospendere il bando per il servizio del nonno vigile. Vediamo. Consigliere Pignoli il comune di Pescara non ha rinnovato i bandi per il servizio del nonno vigile oggi in conferenza stampa voi contestate questa decisione carte alla mano. Si diceva che c'era un problema amministrativo dopo che il governo ha tolto i voucher noi questa mattina abbiamo dimostrato esatto contrario dopo aver fatto una ricerca sui vari comuni abruzzesi quindi non ci siamo neanche tanto allontanati siamo rimasti in Abruzzo e abbiamo visto ad esempio che il comune di Roseto rispettando la legge li continua ad avere quindi mi chiedo a me stesso che la politica e quindi nel caso specifico l'avvocato Blasioli che è il vice sindaco e anche assessore al personale non ha ritenuto secondo noi di poter fare il bando perché quindi è una volontà politica e non amministrativa. Quindi voi cosa chiedete all'amministrazione comunale? No, non chiediamo nulla adesso presenteremo noi la delibera in consiglio comunale da semplici consiglieri per l'istituzione di un servizio di nonno vigile per cui questo servizio speriamo di farlo ripartire nel più breve tempo possibile. Quanti erano i nonno vigili a Pescara fino allo scorso anno? Erano 45 45 persone bisognose perché per partecipare al bando praticamente era richiesto il modello ISE più basso era il modello ISE che poi è lo stato patrimoniale della famiglia e più possibilità avevano di poter entrare all'interno di queste scuole era un piccolo aiuto che il comune dava anche questo ovviamente grazie all'aggiunta Alessandrina è venuto meno. Cambiamo ancora pagina nelle zone del Vastese poi tra Ortone e San Salvo la Sasi informa i residenti sulle quantità d'acqua attualmente in uso nella sorgente del Verde elencando i motivi che portano alla decisione di sospendere l'erogazione dell'acqua nelle ore preserali e notturne. Le sorgenti hanno un andamento nella norma rispetto agli anni scorsi compresa la sorgente del Verde dicono alla Sasi SPA di Lanciano ma l'acqua viene razionata con la sospensione dell'erogazione nelle ore preserali e notturne un provvedimento che in queste settimane di elevate temperature i cittadini non riescono a comprendere i dati tecnici spiegati da Fabrizio Tallone della Sasi SPA. La quantità della sorgente che è arrivata a un punto massimo intorno a fine maggio inizi di giugno intorno ai 1900 litri d'acqua al secondo è arrivata attualmente ai 1200 litri d'acqua al secondo che è la quantità che noi trasportiamo con le nostre condotte per alimentare i 50 comuni dell'acquedotto verde. Il limite massimo proprio del trasporto è rappresentato da questi 1200 litri d'acqua perché appunto le condotte hanno questa potenzialità. Cosa quindi non c'è nulla di particolare ovviamente quando la portata nei prossimi giorni scenderà al di sotto di questi 1200 litri abbiamo un campo Pozzi sempre a Fara San Martino che ci consente di integrare la differenza che manca ai 1200 litri d'acqua al secondo. Il problema dice ancora Talone risiede nel Bastese sulla costa Chietina in generale da Ortona a San Salvo a causa dell'aumento della popolazione nella stagione estiva. La situazione del Bastese è un po' particolare ma è molto legata a una richiesta molto esagerata perché comunque c'è un notevole aumento di popolazione e quindi non riusciamo a soddisfare tutte queste richieste e quindi siamo costretti a ricorrere alle sospensioni notturne che in alcuni punti del nostro territorio ovviamente non è più notturno ma si sposta anche nel tardo pomeriggio ma è questo essenzialmente dovuto agli elevati consumi derivanti da non solo le nostre abitudini quotidiane ma anche all'aumento del numero della popolazione soprattutto su questi comuni costieri a partire da Ortona fino a San Salvo ma anche sono gli usi impropri che incidono notevolmente sulla richiesta di fornitura idrica. Torniamo all'Aquila perché è ufficiale è stata infatti pubblicata l'ordinanza anti-bivacco che prevede il divieto al di fuori dei casi e dei luoghi autorizzati di allestire tavoli panche o altre attrezzature per stoccare distribuire e consumare alimenti e bevande vediamo il servizio è stata pubblicata sull'albo pretorio online e sul sito internet del comune dell'Aquila la tanto attesa e tanto dibattuta ordinanza anti-bottiglion con la quale vengono adottate misure per contrastare in centro storico fenomeni di degrado urbano legati alla cosiddetta movida rispetto alla stretta repressiva paventata alla vigilia da molti cittadini tanto che su facebook era stata lanciata provocatoriamente anche la proposta di organizzare un aperitivo autogestito di protesta contro il provvedimento l'ordinanza è molto più soft perché in sostanza si limita a vietare unicamente l'allestimento di bar improvvisati rivendite o attività di distribuzione non autorizzate in determinate zone del centro ossia Viale Gran Sasso Viale Vittorio Emanuele Piazza Regina Margherita Via Castello Via Garibaldi Piazza Chiarino Piazza Duomo Corso Federico II Via Portici Scalinata di San Berardino si tratta peraltro di misure già previste dal regolamento della Polizia Municipale approvato nel 2011 l'ordinanza rimarrà in vigore dal 23 agosto al 4 settembre nel periodo della perdonanza e del Festival del Jazz quando in centro è previsto il maggior afflusso di persone per i trasgressori sono previste multe da 50 a 500 euro e sequestro immediato della merce il provvedimento può essere scaricato dalla pagina provvedimenti provvedimenti organi di indirizzo politico nell'area amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune dell'Aquila www.comune.l'aquila.it apriamo l'ampia pagina degli eventi perché sabato 12 agosto ci sarà una visita e un concerto wild in notturna nel suggestivo scenario della fortezza in compagnia di lupi e rapaci notturni un unicum di eventi promosso con il patrocinio del comune di Civitella del Tronto e che vede protagonista l'anticarte della falconeria oggi patrimonio dell'UNESCO a cura del falconiere Giovanni Granati e che accompagnerà i visitatori nella passeggiata sotto le stelle alla scoperta dei 25 metri quadri di fascino e storia del forte borbonico in compagnia di una scorta d'eccezione lupi aquile poiane falconi gufi e tanti altri rapaci dell'equip falcon vediamo il servizio sono tre anni ormai che stiamo presenti su a Civitella con questa arte non solo l'arte della falconeria ormai un'arte risalente a 6.000 anni di storia e dal dicembre del 2016 anche patrimonio inestimabile dell'UNESCO e proponiamo per il secondo anno consecutivo un wild concert cioè un incrocio tra la passeggiata wild una formula che stiamo proponendo ormai da diversi anni su in fortezza e un concerto per violino violoncello e pianoforte le passeggiate wild sono in crescita anche del 50% rispetto allo scorso anno e oltretutto solo quest'anno abbiamo avuto anche diversi riviste diversi tv che si sono affiancate a questo nostro progetto tra cui l'Arca di Noè con una rubrica fissa sulla falconeria la rivista Patron una rivista che uscirà il prossimo mese in Lituania Lettonia e in Russia Discovery Channel Spagna un film documentario del nome Overland che uscirà nelle sale cinematografiche americane del Medio Oriente GQ Italia e altri progetti che stanno in procinto di nascita tra cui anche due concerti in Giappone dove appunto narrerò anche la storia della fortezza di Civitale del Tronto Andiamo ancora avanti tra pochi giorni avrà infatti inizio la 46esima edizione della Sagra della Porchetta Italica di Campli la manifestazione attiva dal 1964 è tra le più antiche del genere in Italia e si svolgerà dal 18 al 22 agosto con la partecipazione di 10 maestri porchettai locali manifestazione sulla quale si sono levate delle polemiche soprattutto sui social per uno slogan promozionale giudicato sessista vediamo anche quest'anno una Sagra molto importante arricchita di eventi culturali questi anni infatti oltre al fattore enogastronomico abbiamo voluto dare qualcosa in più a livello culturale quest'anno ci sarà una mostra che tra l'altro sarà inaugurata sabato e poi ci saranno una serie di presentazioni libri e più faremo un evento a favore di scattoni e per la precisione gli richiamo l'ufficio turistico Sagra della porchetta un programma ricchissimo con quest'anno la novità dei gettoni saranno due tipi di gettoni un gettone per il panino con la porchetta e un gettone invece per la porchetta a pesca è una grande novità che speriamo che vada a migliorare il modo di approcciare la Sagra da parte degli avventori quindi evitando file e anche da un punto di vista igienico visto che in questo modo i porchettai non maneggeranno soldi c'è un manifesto che è stato più di una polemica per la Sagra della porchetta di Campli qual è la vostra strategia comunicativa cosa rispondete alle accuse di sessismo? quello che dispiace in realtà è che dietro questo manifesto non c'è assolutamente nulla di sessista né nella volontà né nel fine non c'è una vera e propria strategia dietro questa scelta comunicativa sono dei manifesti che fanno parte di una serie di uscite diciamo che sono andate solamente sui social un po' più gogliardi che un po' più provocatori ma che non hanno nulla né di sessista né di appunto di negativo nei confronti né delle donne né di nessun altro tipo di figura in generale e quindi quello che dispiace è che alcune persone anche alcune istituzioni e associazioni hanno avuto una una reazione un po' che per noi sembra esagerata però diciamo tutto bene qualche finisce bene il nostro comunicato che abbiamo rilanciato sulla nostra pagina Facebook abbiamo invitato queste autorità alla Sagra così da chiudere questa piccola polemica e dal 12 al 17 agosto il via alla 48esima edizione della Sagra di Torrano Nuovo cibo, musica, sicurezza e tanti posti di lavoro per un evento unico sul territorio dopo le dimissioni del direttivo della Proloco c'era stato un momento per cui la Sagra rischiava di andare in stand by per fortuna dopo la fruttuosa collaborazione lo scorso anno tra Proloco e associazione commercianti quest'anno lei ha deciso di affidare totalmente in mano all'associazione l'evento ed è tutto pronto sì sì tutto pronto come ogni anno i preparativi e l'organizzazione ormai è una macchina rodata dopo la prova dell'anno scorso in cui l'ASCOM ha collaborato con la Proloco quest'anno per vari problemi la Proloco ha perso alcuni membri del direttivo quindi non c'è stato tempo per riformare un nuovo direttivo che magari non era pronto per la manifestazione abbiamo deciso di dare l'organizzazione all'ASCOM c'è una novità che è la Via dei Vini che l'associazione organizza la promozione diciamo delle aziende di Torano e anche della Val Vibrata con un allestimento dell'associazione italiana sommelier che ci verranno a dare una mano nel servizio c'è anche una novità riguardo alla musica non verrà allestito il Pasco in piazza ma sono stati individuati quattro punti musica in cui suoneranno questi gruppi da terra in mezzo alle persone che sarà una cosa molto simpatica riconfermato il DJ camp il dopo Sagra da sottolineare un altro aspetto importante quello della piccola industria grande industria lo potremmo definire tale per Torano che muove 500 lavoratori più l'indotto per cui davvero ci sarà anche una risposta occupazionale per il periodo di Sagra sì questa è una manifestazione che per Torano è diciamo fondamentale verranno allestiti tanti di quegli stand ubicati tanti posti di collaborazione che per il paese è una grande risorsa e siamo alla pagina sportiva al calcio per parlare del Pescara abbattuto a sorpresa ieri sera al Mariani Pavone dal Pineto con il risultato di 2 a 1 Pescara in maschera e con la testa alla gara di domani sera in Coppa Italia a Brescia tanti i giovanissimi schierati dal tecnico Zeman vediamo il servizio sorpresa al Mariani Pavone di Pineto dove un Pescara in maschera esce sconfitto per 2 a 1 al cospetto dell'undici già ben rodato di Daniele Amaolo tante le seconde linee bianca-azzurra in campo nella penultima amichevole della stagione con la squadra con la testa già ai prossimi impegni schierati dal tecnico Zeman anche Biraghi Memushai Selasi e Benali prossimi alla cessione fra gli undici di inizio gara e in distinta tanti giovanissimi considerando anche l'impegno ravvicinato in Coppa Italia con il Brescia al Rigamonti il caldo tropicale del Mariani Pavone non ha scoraggiato i tifosi delle due formazioni numerosi sugli spalti oltre 800 gli spettatori al sesto Pineto ha sorpresa in vantaggio con Pezzotti che approfitta di un errore in disimpegno di Selasi superando Antonino la squadra di Amaolo sulle ali dell'entusiasmo nella primissima parte di tempo si porta sovente in avanti anche se all'undicesimo Benali prima impegna Giacchetta e poi si procura un rigore in forma per l'1-1 il Pineto intraprendente al diciannovesimo e Gragnoli a segnare in fuorigioco con il direttore di gara che annulla poi qualche bella giocata fino al trentasettesimo quando c'è un brivido in area pescarese con gli attaccanti locali che però non riescono ad approfittarne al quarantesimo l'ex giocatore di Avezzano e San Nicolo Bisegna a mancare di un soffio il 2-1 per la formazione di casa al quarantacinquesimo e poi Cristiano Biraghi ad impegnare ancora a giacchetta che respinge nella ripresa Zeman spedisce in campo quasi tutta la formazione primavera con il caldo a farla da padrone al quattordicesimo la squadra di Amaulo trova il raddoppio con la rete di Pezzotti che con un pallonetto chirurgico supera Fargione per il 2-1 con tutti i baby sul terreno di gioco ad eccezione di Perrotta le emozioni latitano e con il Pescara in evidente difficoltà si arriva così a fine gara senza grandi sussulti ma con una buona opportunità al quarantaduesimo per Napolano prima della fine della gara con i biancazzurri con la testa a Brescia e alla termine della gara tra Pescara e Pineto abbiamo ascoltato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che ha fatto il punto sul mercato e sulle operazioni in entrata ed in uscita vediamo Presidente Sebastiani allora si parla ovviamente ancora e sempre di più di mercato Benali Memusha e Biraghi sono prossimi all'uscita ma no sono quelli che hanno delle offerte le valuteremo e poi decideremo insieme è evidente loro lo sanno dall'inizio che da Pescara non si muove nessuno se non sono pagati e quindi sono giocatori di valore Pescara se li tiene stretti se non non vedranno corrisposti i giusti valori ai giocatori per quanto riguarda Pessina è più vicino al Pescara il giocatore dell'Atalanta in questo momento Presidente? No Pessina da quello che mi risulta ancora non decidono se metterlo in uscita o meno quindi al momento è più vicino all'Atalanta Bovo e Fornasier si dice il rumor forse mercato che sono in partenza da Pescara è così almeno uno dei due invece Fornasier in questo momento stanno finendo la parte di riabilitazione e poi una volta finita quella parte lì sapete tutti che Bovo ha una clausola sul contratto io sarei contentissimo di tenerlo e per Fornasier vediamo Dovrebbe però arrivare almeno un altro difensore centrale Presidente? Sì intanto stiamo chiudendo l'acquisto del giovane Risalde e sicuramente se uscirà qualcun altro andremo a prendere il sostituto ma al momento abbiamo 5 o 6 di difensori centrali importanti che se dovessero rimanere penso che farebbe piacere a tutti Ma cosa le ha chiesto Zeman in queste ultime ore? No no Zeman non chiede non chiede altro che poter lavorare con un numero giusto di giocatori ce n'è ancora qualcuno in più ci stiamo lavorando nei prossimi 7-8 giorni penso che la Rosa sarà completa e al punto giusto per poter continuare a lavorare per bene Ultime due battute Presidente sabato c'è questa gara di Coppa Italia con il Brescia ovviamente cercherete di vincere per passare il turno E certo noi andiamo a giocare per vincere sicuramente non andiamo lì per snobbare la Coppa Italia che per noi è importante e cercheremo di passare il turno E si è tenuto questo pomeriggio all'Aurum di Pescara il sorteggio dei calendari dei tre gironi di serie C che vedrà anche quest'anno il Teramo come unica rappresentante della nostra regione andiamo a vedere il servizio Sarà Mestre Teramo il primo impegno ufficiale dei biancorossi di Antonino Asta in campionato questo l'esito dei sorteggi di questo pomeriggio all'Aurum di Pescara della nuova serie C in un campionato che sarà a 19 squadre e dunque con il turno di riposo e a proposito di turno di riposo il Teramo riposerà alla seconda giornata di campionato dopo la trasferta di Mestre per poi tornare di nuovo in trasferta in uno stadio prestigioso il Romeo Menti di Vicenza contro la formazione Veneta appena retrocessa dal campionato di serie B dunque per la prima partita in casa del Teramo bisognerà ancora attendere perché questo pomeriggio sono state estratte solo le prime tre giornate di campionato dei gironi A, B e C e allora un primo commento del presidente del Teramo Luciano Campitelli Meglio di così non potevamo sperare però far sicure che che da queste due diciamo trasferte possa arrivare qualche bella soddisfazione quindi partire poi avvantaggiati oggi sicuramente ci aspettavamo che almeno per dare ai nostri tifosi la voglia di rivedere la prima partita dopo il riposo in casa però se è così non è che è così quindi non cambia niente ci dobbiamo impegnare noi a cercare di riportare qualche punto prima che facciamo la nostra prima partita in casa peraltro una neopromossa come il Mestre e una retrocessa come il Vicenza due squadre molto differenti tra di loro una che punta alla salvezza e un'altra che forse punta all'altissima classifica come il Vicenza tutte e due molto difficili perché il Vicenza sicuramente come il Padova sarà una di quelle squadre che puntano a vincere il campionato e noi l'altra dopo una una vittoria di campionato ci sarà il giusto entusiasmo perché una squadra di Serie D le prime partite sicuramente sparano tutte le loro cartucce però noi giocheremo le nostre chance e sicuramente non partiamo per sconfitti bensì andiamo lì lotteremo su ogni pallone per cercare di di ottimizzare e di fare il massimo dei punti peraltro la seconda giornata il Teramo riposa perché la Lega Pro anzi la Serie C è tornata a 57 squadre dunque tre gironi dispari ve lo aspettavate se lo aspettava il Renate va nel girone del Terra ma sicuramente non ce l'aspettavamo sicuramente per noi è molto dispendioso perché perché essere l'ultima sia per il nord che per il sud sicuramente non è non è bello però viviamo in questo splendido posto e quindi io sono felice di vivere qui e di fare qualche chilometro in più per fare qualche trasferta peraltro metterebbe la firma anche per fare la fase finale che si svolgerà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno metterebbe la firma il presidente Campitelli per essere col suo Teramo presente ma quando ho detto a Gravina quelle cose è perché ognuno di noi pensa in un certo modo e tutto può accadere quindi non è che partiamo né per sconvitti né per vittoriosi quindi questa squadra è una squadra nuova sul campo dovrà dimostrare di poter meritare innanzitutto una salvezza tranquilla e poi tutto quello che viene di più sicuramente sarebbe il massimo per cui è come se noi giocassimo in casa perché giochiamo in Abruzzo quindi noi siamo felici e orgogliosi di rappresentare oggi la Serie C come l'unica squadra d'Abruzzo quindi da questo lato sono molto contento per l'Abruzzo e quindi mi faccio carico anche verso tutti gli abruzzesi e i nostri tifosi di un impegno ancora più importante per tutto il campionato queste dunque le impressioni del numero uno bianco-rosso come detto in una giornata condizionata dalla questione rende di nuovo reinserito all'interno dei campionati di Serie C e dunque la terza serie nazionale passa a 57 squadre non è solo questa la spina che dovrà risolvere il presidente abruzzese Gabriele Gravina perché c'è anche il minacciato sciopero da parte dell'associazione calciatori che protesta contro le rose a 14 over e il pagamento delle mensilità di giugno che è slittato a settembre ascoltiamo le impressioni del numero uno della Serie C è un campionato nuovo e come ogni inizio ha sempre le sue speranze le sue ansie devo dire sono molto felice per la città di Rende senza voler intaccare o diminuire questa loro gioia devo dire che pur rispettando qualunque aspetto della decisione di un organo di giustizia all'interno del mondo dello sport credo che quello che è stato deciso oggi non è in linea con quello che noi portiamo avanti da tempo che è il principio della tutela dei valori dunque Mestre Teramo domenica 27 agosto alle 18.30 probabilmente sul campo di Porto Gruaro da qui fino alla fase finale che novità del giorno insieme al nuovo logo della Serie C si giocherà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno ci sarà la finale la fase finale che designerà chi sarà promosso nel prossimo campionato di Serie B ed è tutto anche per questa terza edizione del TG6 l'informazione della nostra rete torna domani come sempre alle 8 con Mattino 6 grazie per averci seguito l'augurio di una serena notte grazie per aver guardato